Buon pomeriggio, Canale 2 c'è dopo il Tg, come sempre Canale 2 puntualmente vi propone ospiti e argomenti interessanti. Abbiamo cominciato questa settimana parlando un po' di politica e continuiamo su questa tematica. Oggi abbiamo con noi in studio il primo cittadino Giacinto Forte, sindaco, io le stringo la mano perché ci vediamo dopo le vacanze, sono state vacanze un po' particolari, chi ha dovuto affrontare anche altre problematiche, però tutto sommato fa parte della vita tutto quello che ci circonda e ci accade, però come sempre succede al ritorno dalle vacanze, prima nel fuori onda stavamo dicendo che un sindaco è preso da 300 problematiche, anche durante le vacanze, però accade che per ognuna di queste problematiche c'è una persona che decide di seguirla, quindi lei automaticamente se su una di queste cose, per motivi quelli che possono essere svariati, tecnici, di tempo eccetera eccetera, magari non riesce a fare quello che lei ha detto, tutti lì giù ad attaccare insomma, quindi stiamo vedendo anche Roma, sta accadendo un po' di tutto e di più, quindi fare il primo cittadino come ho sempre sostenuto forse è il mestiere, chiamiamolo mestiere perché bisogna imparare a fare anche questo lavoro, è il mestiere da non augurare a nessuno, è una croce che vi siete messi sulle spalle. Ma è entusiasmante, è veramente entusiasmante, in modo particolare se questo lavoro o questa dedizione si fa a tempo pieno e si dedica tutto il tempo per la propria città e il primo cittadino deve amare la propria città, io la amo nonostante le stupidaggini che pochi ritengo, pochi dicono, mettono in essere offese gratuite perché non sanno che cosa dire, l'ultima mi ha fatto veramente sorridere, durante la notte bianca un cittadino ha avuto modo di scrivere su Facebook, ho assistito in diretta al blackout dello spettacolo, ma guarda veramente siamo all'assurdo in questa città, si spengono le luci perché bisogna dare vita allo spettacolo e qualcuno si permette addirittura di accusare il sindaco che era lì perché è richiesto dall'organizzazione di fare in modo che quello spettacolo potesse essere vissuto da tutti perché c'era stata una dimenticanza nello spegnimento di alcuni fari collocati sul palazzo di città, si arriva a questo e poi c'è anche chi, ripeto, continua a scrivere... Purtroppo i social danno voce a tutti e lì ci può essere il commento intelligente e ci può essere anche quello meno intelligente. Lì li sconfessiamo perché appunto c'è stata una partecipazione mai vista per una notte bianca e quindi di questo noi siamo veramente... Vabbè io non voglio parlare della notte bianca... No, era l'esempio sulle stupidaggini... Anche io ho letto commenti svariati, insomma, un po' di tutto c'era. Personalmente per quella che è stata la mia visione ritengo che non fino a notte fonda ma fino a una certa ora c'è stata gente ad Altamura, ho visto locali, pizzerie a lavorare, ho visto tantissima gente di fuori, giovani venuti dall'Interland che venivano ad Altamura e poi parliamoci chiaramente, una notte bianca non è altro che un prolungamento del passeggio con qualche evento, qualche spettacolino e poi si mangiucchia qualcosa. E quindi è questa la notte bianca alla fine. Come è andata? Io non so di cosa si aspettano alcuni cittadini da questa notte bianca, un qualcosa di divino che scende dal cielo, non ho mai visto queste cose. E' stato un cartellone estivo che ha avuto il suo successo e di questo ne siamo fieri e orgogliosi. E' chiaro che si può fare sempre di più, ma presentarlo sotto questo aspetto è diverso che criticare perché ci sono alcuni che sono solo abituati a criticare. E succede questo, che qualunque cosa, oggi un politico che comanda, che ha la bacchetta, dice decide di fare qualcosa, c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Quindi mettiamola così, io adesso non vorrei fare, come si suol dire, tutta una trammissione su questi argomenti, preferire entrare sulle problematiche. Oggi avete Consiglio Comunale alle 17.30, quindi vi riunirete, poi avete la seduta mattutina anche venerdì, si discuteranno alcuni punti, alcune proposte già passate in precedente ai Consigli Comunali, magari non discusse per problemi di tempo perché c'erano altre questioni, ma nemmeno voglio anticipare le tematiche del Consiglio Comunale perché i nostri tre spettatori, lo manderemo oggi in diretta, lo potranno seguire, grazie alla vostra, su Canale 2. Parliamo di quello che è magari l'immediato, visto che adesso siamo a settembre, si riaprono le scuole, c'è tutta una serie di situazioni, i cittadini che si aspettano la sistemazione della viabilità, cittadini che magari continuano sulla storia delle buste dell'immondizia, problemi che riguardano un po' la quotidianità, tutto ciò che io ritengo comune e di comune utilizzo, quindi parliamo di questo, intanto parliamo delle buste, so che ieri è cominciata la distribuzione del Vittimaino con un nuovo criterio, perché prima era un po' complesso, doveva andare lì con la bolletta, tutta una serie di cose. Con un nuovo criterio che vede l'amministrazione in prima linea a controllare, a differenza della distribuzione delle buste che venivano consegnate giù al comune, venivano consegnate all'incirca buste per 30 famiglie al giorno, quindi pensate un po' i tempi biblici per la consegna. 30 mila nuclei familiari non sarebbe mai. 23 mila nuclei familiari, tempi biblici, abbiamo parlato in questi mesi con l'azienda e abbiamo trovato la disponibilità dell'azienda, io devo dirlo, devo assolutamente dirlo perché tutte le volte che ho avuto bisogno al di fuori di un contratto si veda la festa di Federicos o si veda la festa della Notte Bianca e abbiamo chiesto all'azienda di intervenire per rendere pulita la città c'è stata piena disponibilità, così come c'è stata piena disponibilità su questa questione. Con costi aggiuntivi? Nessun costo aggiuntivo, senza costi aggiuntivi, sono usciti a pulire la città perché il sindaco lo ha chiesto, perché ci siamo resi conto che alle 3 di pomeriggio già i cassonetti nel centro storico erano pieni e quindi abbiamo chiesto alla direzione un ulteriore intervento che è stato concesso. Così come c'è piena disponibilità dell'azienda a discutere per migliorare un servizio, quello cari concittadini della distribuzione delle buste che è ormai un sistema vecchio, obsoleto, siamo forse l'unico comune ancora in Italia ad avere questo servizio che non ha più modo di essere, è difficile. Noi ieri con tante difficoltà io chiedo scuse ai miei concittadini perché ieri si sono presentate centinaia di migliaia di persone che volevano chiedere le buste. Le abbiamo date nel giro di un'ora e mezza a ben 300 nuclei dei familiari, una scorta di 4 mesi sino al 30 settembre. Abbiamo dato una scorta di dicembre. No, fino al 30 settembre perché al 30 settembre scade la proroga. No, io pensavo i 4 mesi, fino al 30 settembre consegnerete le buste. No, e abbiamo dato buste per 4 mesi, quindi sino al 30 settembre perché io poi non posso andare oltre perché non so cosa avverrà ancora e su questo ci fermeremo qualche minuto. Quindi ieri abbiamo cominciato a dare le buste e abbiamo chiesto ai concittadini di venire con una semplice carta d'identità, non neanche con la cartella, certo che se la portano va bene perché capiamo se c'è qualche errore. Noi abbiamo un database fornito dagli uffici, abbiamo tutti i nuclei familiari in questo database. sapete quali sono le utenze, chiamiamole così. Se arriva felice, ci dà la carta d'identità, noi controlliamo, non vediamo neanche se ha pagato o meno perché non è compito dell'amministrazione controllare se ha pagato. Se non hanno pagato arriverà la cartella a casa, arriverà Equitalia e noi siamo tenuti a distribuire le buste e non c'è nessun costo aggiuntivo come qualcuno ha voluto far credere perché le buste vengono consegnate dall'azienda. Ieri addirittura c'erano quattro operatori e dallo staff del sindaco e dai consiglieri comunali che vorranno e degli assessori perché nessuno potrà dire non è vero che le buste sono state consegnate, non è vero. È chiaro che molti concittadini chiedono che il servizio possa essere reso a casa. Magari concittadini noi abbiamo un appalto vecchio di dieci anni con un omino che consegnava le buste e che le consegnava non più per un anno perché le proroghe venivano date ogni tre mesi e nessuna azienda poteva dare le buste per un anno non sapendo se ci sarebbe stata l'ulteriore... Eh beh, ci sono state sempre proroghe... Sempre proroghe e meno male che anche sulle proroghe è finita la cuccagna. Io alcuni mesi fa avevo detto in una riunione di commissione, devo ecevrono tutti i capigruppo, che il sindaco stava pensando ad una gara a ponte. Fermiamoci un attimo su questa situazione. Ci fermiamo. No, no, ne parliamo però... Nel senso che ne parliamo. Volevo perché è un argomento delicatissimo. Terminiamo, quindi le buste continueremo a darle tutti i giorni, tutti i giorni, per 200, 250, 300 nuclei familiari. Per evitare la presenza di persone che arrivano stiamo consegnando dei piccoli inviti. Daremo un bigliettino a tutti coloro che verranno. Ieri per esempio abbiamo dato altri 200 inviti alle persone che erano arrivate ma non avevano avuto la busta. Quelle persone verranno oggi pomeriggio. Le persone che verranno oggi pomeriggio riceveranno un ulteriore bigliettino dove su sarà scritto il giorno in cui potranno venire a prendere le buste. Quindi ieri abbiamo avuto un po' di disagi, ma da oggi cominciamo a regolamentare... E' stato il primo giorno, si è creato un po' l'effetto imbuto tutti. E noi pensiamo che nel giro di un mese terminiamo questo servizio. Prima di arrivare, non sappiamo, abbiamo chiesto a Consip, abbiamo chiesto ad Unicam, abbiamo chiesto al commissario straordinario regionale di darci delle risposte, di sapere che cosa dovremmo fare noi. Tant'è che il commissario regionale è già stato presente nella nostra città, è venuto ad Altamura e ha detto delle cose chiare. Quindi in questi giorni continuerà la distribuzione delle buste. Chiedo ai miei concittadini, ci sarà tempo e modo di darli a tutti, non c'è bisogno di arrivare. Arriviamo a questa questione dove il sindaco da alcune forze di minoranza, di opposizione è stato letteralmente offeso. E qualcuno si è anche permesso fuori e capirò chi è stato, perché c'è qualcuno che dice il sindaco ha chiesto e ha scritto che querererà qualcuno. E' chiaro, perché un sindaco non può essere offeso da qualche imbecille che mette in giro voci, che a breve sarà preso dalle forze dell'ordine, perché è d'accordo con la tradeco, perché ha fatto qualcosa per annullare la gara. Vabbè, sono voci popoli, come si dice, non c'è nulla di ufficiale. Le voci del popolo sono messe in giro arritamente da chi è in difficoltà, da chi non studia le carte, da qualcuno dell'opposizione che non conosce l'ABC della politica. Perché se vedo che in questa emittente vengono esponenti di rilievo dell'opposizione a dire che questo sindaco ha preso un abbaglio perché sta pensando ad una gara a ponte e quindi vuol mettere in discussione quello che Unicam, stiamo aspettando da tre anni la gara, stiamo aspettando da tre anni la gara che deve essere aggiudicata e non sappiamo quando, cari concittadini, sarà aggiudicata. Io le devo essere sincero, tutti i giorni vado sul sito dell'Unicam per verificare se c'è una comunicazione. Guarda caso che nel mese di luglio, il 15 luglio, dovevano definire l'aggiudicazione, noi eravamo stati lì a Roma. Entriamo un po' su questa vicenda. Ed entriamo su questa vicenda. Con calma perché sennò poi consumiamo tutto il tempo a disposizione. Io avrei dovuto fare una conferenza stampa, mi sono fermato perché il commissario regionale è venuto ad Altamura e ha detto prendo in mano io la situazione e vedrete novità in questi giorni. Io la questione la guardo sotto quello che dovrebbe essere l'espletamento del servizio. Allora se il nuovo servizio prevede una serie di situazioni che Altamura non ha, Altamura non ha, cioè il nuovo servizio credo preveda l'eliminazione dei cassonetti, il porta a porta e le isole, diciamo i centri di raccolta comunale che non sono le isole ecologiche, sono un'altra cosa. Partiamo dalle isole ecologiche. Non avendo queste tre cose il comune di Altamura come fa ad entrare in una situazione per la quale non è assolutamente pronto? No, per quanto riguarda i cassonetti, l'eliminazione dei cassonetti e il porta a porta è nella gara. Ma io cittadino dove andiamo a buttare i rifiuti se non c'è i cassonetti? Passeranno il porta a porta? Io vivo fuori, sto fuori tutta la settimana, rientro la domenica e i CCR dove stanno? Questo è un primo punto. Anche su questa situazione noi abbiamo subito risolto un problema perché la vecchia amministrazione aveva dato il permesso a costruire i CCR su zone che non erano di proprietà del comune. Siamo alla follia. Su questo aspetto stiamo aspettando la regione che ci ridia il milione di euro per procedere alla realizzazione dei due CCR. Ma non è questo il problema. Il problema serio è capire la gara e di fronte ad una gara che non ha tempi certi. Due mesi fa il sindaco aveva detto in una riunione che ne dite se pensiamo ad una gara a ponte? E su quella gara a ponte sono stato offeso a accuse incredibili come se il sindaco, cari concittadini, questa amministrazione, questa città che è la città più grande dell'Aro non fa parte di Unicam. Quindi il sindaco di Altamura non ha nessuna voce in capitolo per bloccare nessuna gara. Quindi quello che è stato scritto sui giornali che grazie al sindaco di Gravina che ha smentito il sindaco di Altamura non è assolutamente vero perché io solo in punta di piedi, nonostante sia il comune più grande e tutti gli altri sette comuni insieme non raggiungono la forza del nostro comune, noi siamo fuori da Unicam e non abbiamo voce in capitolo. L'Unicam è nata tanti anni fa, Altamura non è mai andata a nessuna riunione, stiamo parlando del sindaco Stacca. Quindi noi siamo fuori da ogni tipo di decisione e io in punta di piedi mi sono permesso di chiedere ad Unicam di fare attenzione, solo questo potevo fare io. Ma hai messo anche il giallo delle coperture finanziarie, il comune nelle previsioni di bilancio non aveva messo a disposizione le somme. Non aveva messo a disposizione e quando queste carte, non l'opposizione cari concittadini che parla, ma il sindaco Forte ha chiesto l'intervento del Noe e insieme al Noe hanno mandato le carte alla Procura della Repubblica. Questo non significa che io sono colluso, ma che io sono trasparente, a differenza di chi ha parlato e non ha avuto il coraggio di mandare, di prendere le carte e di mandarle, perché probabilmente c'era qualche collusione tra maggioranza e opposizione nella vecchia amministrazione. Io ho preso le carte e le ho mandate alla Procura della Repubblica, ho detto fate luce, fate chiarezza. E alla mia proposta di una gara ponte e alle offese gratuite che sono arrivate, ora non pretendo le scuse, ma pretendo che le opposizioni vengano qui e dicano che Michele Emiliano è un delinquente come Giacinto Forte, perché l'aggiunta Emiliano, due mesi dopo le mie dichiarazioni in una commissione, è venuta fuori con una nuova legge regionale che impone ai comuni, lì dove c'è anche una gara in essere, di approntare nell'emore di una non aggiudicazione una nuova gara. Io l'ho detto due mesi fa, l'aggiunta regionale l'ha detto soltanto il 19 agosto, adesso pretendo che… Le direttive in materia di rifiuti le dovrebbe darle la Regione? Le ha date la Regione, appunto. Le ha date la Regione e il commissario è venuto qui al comune di Altamur, ad incontrare i miei dirigenti, a dire approntate una nuova… Quindi la Regione mi ha detto… La domanda che mi pongo, al di là di tutte queste prefazioni, è un'altra, c'è una gara che l'Unicam deve, o meglio la Consip deve dire chi ha vinto, il 30 settembre, finiamo finiamo, il 30 settembre, scade la propria, dal primo ottobre ad Altamura che succede? E io non lo so e tieni conto che… No, no, è questa la questione adesso più seria. E tieni conto che io 15 giorni fa ho scritto già ad Unicam, a Consip, dicendo mi volete dire quello che io devo fare… Cioè lei oggi sta consegnando le buste ai cittadini, ma il primo ottobre chi raccoglierà i rifiuti e chi li porterà fuori? Non lo sappiamo ancora. È questa la questione seria. Non sappiamo ancora se dobbiamo fare una proroga e io la proroga in base alla legge regionale non la posso più fare, è chiaro, io la proroga non la posso più fare e io ho scritto 15 giorni fa e ancora il sindaco non ha ottenuto una risposta, perché io con una risposta e mi dicono abbiamo bisogno ancora di 3-4 mesi, io non posso più attendere perché questo aspettare da 3-4 mesi è da 3 anni che ce lo dicono, 3 anni fa doveva essere aggiudicata questa gara, 3 anni fa, possiamo aspettare ancora e il sindaco deve subire dai cittadini le offese perché i cassonetti non si aprono, perché nella nuova zona di espansione non c'è il servizio e quindi non ci sono cassonetti e poi le colpe ricadono sempre sul comune perché il comune non fa rispettare le regole alla Tradeco che deve mettere i nuovi cassonetti, non c'è scritto da nessuna parte che la Tradeco deve mettere i cassonetti, i cassonetti cari concittadini sono di proprietà del comune, dovrei metterli io e io secondo voi posso comprare 100 cassonetti oggi e domani mi dicono che deve partire la nuova gara e siamo sempre in attesa ed è su questo principio che la regione ha cambiato le regole. Ma tecnicamente non si fa in tempo. Tecnicamente non si fa in tempo ma io sono obbligato se mi dicono che di cominciare a predisporre gli atti e lo metterò nel nuovo decreto che darò alla Tradeco a chi verrà. È una patata bollente perché se dal primo ottobre l'azienda che svolge il servizio non ha nessun mandato a continuare, sono ancora in attesa. E tieni conto che in Puglia ci sono alcuni comuni che hanno già fatto la gara, ma se la legge è uscita il 19 agosto perché ci sono consiglieri regionali in alcuni comuni che informano i sindaci. Qui abbiamo il contrario. Noi abbiamo consiglieri regionali o abbiamo partiti politici che governano la città metropolitana, che governano la regione e che governano il paese, che non danno nessuna indicazione ad un amministratore. Anzi, invece di dare le indicazioni giuste, questi neanche parlano con gli organi superiori per quello che si sta facendo. Tale è l'unione che c'è tra di loro, che neanche parlano perché io al posto loro avrei fatto un'opposizione completamente diversa. Avendo città metropolitana, regione e governo che comandano avrei detto sindaco si spiccia a fare questo perché c'è questo, sindaco che ci sono questi fondi. Questi sono soltanto bravi a criticare. Ma noi andiamo a venti perché le nostre amicizie ce le abbiamo, perché questo sindaco si fa rispettare, perché questo sindaco è conosciuto e questo sindaco ottiene finanziamenti, finanziamenti a livello regionale e ce ne sarà un altro prossimo con la presenza di un assessore che verrà qui ad Altamura a presentare un altro progetto importante per la città. Perché noi quando andiamo agli uffici non andiamo a chiedere favori, presentiamo progetti concreti, progetti che poi alla fine si veda la presenza del ministro Brai ad Altamura la settimana scorsa, l'ex ministro alla cultura che è venuto a visitare Cava Pontrelli, che è venuto a visitare l'uomo di Altamura e che ha detto che noi questo progetto lo vogliamo e dobbiamo cercare di farlo nazionale perché dobbiamo far arrivare più fondi possibili in questa città che merita, che merita tanto. E quindi adesso aspettiamo la convocazione del commissario, chiesta da me, all'emergenza, presente già ad Altamura, quindi noi parliamo con le istituzioni, prima di dirle cose, parliamo con le istituzioni, non andiamo ad accusare le persone senza cognizione di causa, parliamo con le istituzioni e anche su questa questione qua abbiamo avuto ragione. Così come ti dico che avremo ragione su quello che noi abbiamo scoperto di quella gara. Qualcuno dice dopo otto mesi l'hai scoperta. Io dico che tu sei stato in consiglio comunale per gli ultimi cinque anni e che cosa hai fatto dall'opposizione? Andate a spulciare nella mia maggioranza, nella commissione di vigilanza e controllo tenuta da un esponente del PD tutti gli atti, tutti gli atti e noi tutti gli atti apriamo e li diamo quando loro avevano la commissione di vigilanza e controllo del bando della raccolta differenziata perché lì non hanno fatto niente. In questa città bisogna dirle cose chiare, tutti hanno paura di parlare, tutti non vogliono parlare perché si parla della Tradeco, io non ho paura di parlare con nessuno, finché c'è il bene della città io non ho paura di parlare con nessuno che si chiami Tradeco, che si chiami Edilco, che si chiami Giordano, che si chiami Simone o che si chiama qualsiasi imprenditore perché una cosa è chiara, a me arrivano messaggi di imprenditori che sono andati in quel 10, in quel di Matera e che offrono a questa amministrazione la disponibilità per arricchire la città, per arricchire la città e ci sono imprenditori che hanno donato 10 defibrillatori, imprenditori che vogliono donare degli alberi imponenti alla città perché hanno visto un sindaco che dalla mattina alla sera li va a incontrare, si mette a loro disposizione, parla con i cittadini, si impegna per rendere bella la città. Abbiamo scoperto in quella situazione che nessun comune, nessun comune dell'Aro, quindi nessun comune, aveva predisposto gli atti ufficiali portandoli in Consiglio Comunale, così come prevedeva una lettera inviata da Damore, segretario di Unicam, che chiedeva alle amministrazioni. Quindi nessuno ha dato le coperture? Nessuno, tant'è che noi abbiamo un deliberato di Consiglio Comunale che è stato portato tre volte, preparato dall'ufficio ambiente, a firma di buona massa, tre volte in Consiglio Comunale la vecchia amministrazione che non è stato mai approvato perché non si facevano i Consigli Comunali e la legge dice che se tu non appronti questi atti devi chiamare il commissario ad acta e noi abbiamo rischiato perché poi noi abbiamo preso le carte, abbiamo detto, visto che non ci volete ascoltare, visto che non ci volete ascoltare, visto che non volete andare insieme, gli otto sei, da uno dei più grandi avvocati al mondo per chiedere consigli, per chiedere delucidazioni, per andare insieme a Cantone a dire cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, no si sono tutti quanti spaventati, il sindaco forte ha fatto l'accordo con la Tradeco, vuole buttare giù la gara, che c'entro io? Se io non faccio parte di Unicam come fa un sindaco a buttare giù una gara? Io ho semplicemente chiesto di verificare gli atti, l'hanno voluto fare nel loro interno senza chiedere consiglio, senza chiedere consiglio e il sindaco non ha fatto altro che ad una lettera di Unicam dove dice sindaco lei è un delinquente quasi, il sindaco poiché è un delinquente, ad una lettera dove si dice che io sono il delinquente, ho preso le carte e ho detto al Noe e ho detto alla Procura della Repubblica che il sindaco è un delinquente, tenete le carte e mandatelo in galera, vedremo se il sindaco forte è un delinquente, vedremo se il sindaco forte è riuscito invece a sventare la possibilità che qualcuno potesse aggiudicare una gara e il comune di Altamura insieme agli altri otto comuni pagava due volte il sindaco. Io la vedo male per lei adesso, sto un po' ironizzando, perché lei dal primo ottobre non avrà più l'azienda che svolge il servizio. Ma ci siamo mossi, ci siamo mossi prima, quindi siamo... L'Unicam attraverso Consip non ha ancora detto chi svolgerà questo servizio e tecnicamente la vedo dura anche preparare un bando nuovo, quindi non è una storia leggerina. Non è assolutamente semplice, abbiamo delle idee, abbiamo parlato con figure più importanti di noi che ci danno. Però la città si può trovare di fronte a un'emergenza mai affrontata e le cade addosso tutta questa storia, che poi sono tutti i problemi che nascono da prima che lei arrivasse al comune. Sì, tutti i problemi che io mi sono ritrovato, ma non come hanno fatto gli altri, a mettere la testa sotto la sabbia, ad affrontarli, perché è compito di un amministratore affrontare e risolvere i problemi. E non ti nascondo che avrei avuto la collaborazione di tutti. Sarà un merito soltanto nostro questo. Sarà un merito soltanto nostro questo. Beh, spero che questa questione venga affrontata in tempi rapidi. Abbiamo utilizzato tutto il tempo che avevamo. E volevamo parlare della sorpresa che troveranno molti bambini che si apprestano Adesso si riaprono le scuole. So che l'amministrazione ha fatto un bel macchiaggio, insomma, pulito, ripitturato, bagni nuovi. Avete speso circa 300 mila. Abbiamo speso un bel po' di soldi. I nostri figli, i vostri figli cari concittadini, troveranno delle scuole che sono diventate un gioiello. Sono diventate qualcosa di unico, non soltanto ad alta mura. Noi possiamo andare a spiare qualcosa nei prossimi giorni. Possiamo filmare. Ci andiamo insieme. C'è la Tagliaferri, c'è la Collodi, c'è Villa Castelli, la scuola materna di Villa Castelli. Fatevi un giro. Piccole accortezze, ma che hanno reso uniche, veramente uniche, queste scuole. Abbiamo dato dignità ad una presidenza che era collocata in un tugurio. Una presidenza che riguarda il corso EDA, il corso per lavoratori. Un corso importante che Altamura porterà di nuovo sul territorio. Andate a guardarle queste cose. Andate a parlare con i dirigenti. Di che scuola, per che istituto o questo? Questo giù all'Ofanto, dove prima c'era la sede della protezione civile. Andate a vedere cosa è diventata quella presidenza. Andate a vedere la Collodi. Adesso partiranno ulteriori lavori alla Collodi. Non lo dica così, altrimenti partono le visite turistiche. Andiamo noi con le telecamere? Sono diventate talmente belle quelle scuole che sono da visita turistica. Andate a vedere. Da visita turistica. Lo vedranno i genitori, lo vedranno i bambini, lo vedranno un po' tutti. Questa è un'attività concreta. Per chiudere, proprio l'ultimo minuto. Le strade. No, non parliamo delle strade. Ne parliamo un'altra volta tanto. Sappiamo che avete messo in cantiere questa cosa. La novità sulle strade è che nelle prossime settimane incontreremo l'Acquedotto, incontreremo l'Enel, incontreremo le agenzie telefoniche. È giusto far fare prima loro tutti i lavori. Per sottoscrivere con loro un protocollo. Guardate che tra qualche mese faremo queste 40 nuove strade. Non ve ne venite il giorno dopo a dire che dobbiamo fare dei lavori. Se ci sono dei lavori da fare, fatele ora perché quelle strade le vogliamo sistemare e tenere nuove. Quindi abbiamo nei prossimi giorni anche questo. Allora, vorrei chiudere proprio l'ultimo minuto per quello che è accaduto ieri. C'è stata la surroga di Minervini. Enzo Colonna subentra a Guglielmo Minervini e diventa consigliere regionale. Enzo Colonna è un valido condottiero dell'opposizione. Insomma, è sempre stato uno che lei poi ha conosciuto anche da tanti anni. E siamo stati anche colleghi. Quindi noi abbiamo fatto gli auguri come redazione a Enzo perché è diventato consigliere regionale. Adesso avrà un ruolo diverso. Non più opposizione ma governo. Sarà con Emiliano. Sarà con Emiliano e ci aspettiamo finalmente perché questa città aveva bisogno. È vero che abbiamo già un consigliere regionale. Sì, c'è Giannistea. Che c'è Giannistea. Che vive ad Altamura, però lui ha un po' una situazione sdoppiata perché ha le attività da Delfia. Abbiamo già un consigliere comunale, un consigliere regionale che è stato da me investito anche sulla questione rifiuti. Che io ritengo anche del territorio perché si parla tanto di territorio e poi non lo si mette in pratico. Che è Mario Conca. Mario, sì, l'abbiamo invitato diverse volte. Mario che tutti i giorni io colloqui con Mario Conca, esponente dei Cinque Stelle. Che è stato investito del problema rifiuti di Altamura. Adesso invece avremo finalmente un esponente Altamurano. Altamurano. L'augurio più sincero ad Enz di proficua collaborazione con l'amministrazione. Perché i risultati non sono dell'amministrazione, ma sono della politica. E in un momento difficile vedete cosa sta succedendo a Roma. Perché parlare è facile. Parlare è facile. Poi quando si entra... Bisogna stare attenti perché vi possono tirare dei colpi mancini, come si suol dire. Vi preparano una situazione che poi vi mette nei guai. Ma quando tocca il turno al prossimo diventa difficile. Adesso vedremo la collaborazione. Io sono convinto, perché conosco la moralità di Enzo, che sarà costruttiva. Vedremo quello che la regione in più, dico io in più perché già sta facendo tanto per questa città, in più, grazie alla presenza di un consigliere regionale, mi dicono anche presidente di commissione, farà per questo territorio. Bene. Con questi auguri al neoconsigliere regionale Enzo Colonna, che comunque non è piovuta dal cielo la sua elezione, è stato il più suffragato dopo Minervini, non era un lavoro facile politicamente parlando, quindi Enzo ha fatto un grande lavoro in campagna elettorale alle ultime regionali. e quindi con questi auguri ad Enzo concludiamo questa trasmissione, ringraziamo il Sindaco per essere stato qui con noi. Ci vedremo più spesso, io direi almeno un paio di volte al mese, Sindaco, ci dobbiamo vedere. Io spero anche una volta alla settimana, dipende da voi. No, noi siamo sempre pronti qua. Perché le cose in cantiere sono tante. Perché con argomenti importanti è giusto informare la città, anche perché noi siamo il rubinetto per i cittadini. L'abbiamo notato questo mese di agosto che noi eravamo, c'era gente assetata di informazione e non vedeva allora che noi riprendessimo il nostro telegiornale, i nostri appuntamenti quotidiani. Vi dico che il palinsesso di Canale 2 sarà interessato anche da tantissime novità delle quali vi aggiorneremo man mano che andremo avanti, ma vi preannuncio che avremo davvero un anno ancora più corposo in termini di appuntamenti, trasmissioni, notizie, spettacolo, approfondimenti e anche un po' di satira. Adesso non vi dico altro, perché abbiamo delle grandi novità in cantiere. Se mi permetti l'ultimo appello ai miei concittadini, sempre per la distribuzione delle buste, vi chiedo di stare tranquilli, saremo lì per un periodo lungo e importante, non c'è bisogno di accalcarsi tutti quanti. Mi è arrivata anche richiesta, ci sono anziani che non possono raggiungere quella sede. Stiamo pensando e valutando, parleremo nella zona 30 Capilli con il parroco Don Nunzo, se ci mette a disposizione anche lì un locale e per quelle famiglie che abitano lì, un giorno o la settimana saremo anche lì presente e daremo le buste solo ed esclusivamente ai residenti della zona. Quindi fateci organizzare e vedrete che tutta Altamura sarà servita. Va bene, complimenti e auguri per questo lavoro, però a volte a me viene da ridere, ma ci possiamo mettere a parlare delle buste dell'immondizia nel 2016, purtroppo. Lo risolviamo, ci saranno delle novità. È un problema che c'è e va risolto. Grazie amici telespettatori, è tutto, ci vediamo, anzi domani vi vedrete con Arturo Castoro. Grazie a tutti.